Come ti chiami? Vittoria Sara Ti è piaciuto organizzare il concorso del FAI? Mi prendo a cuore? Sì, molto Anche per me FAI, la faccia che avevi mentre pensavi a come coinvolgere le scuole Più in generale, di cosa ti occupi per il FAI? Sono responsabile del settore scuola Io collaboro con l'ufficio scuola e mi occupo dei concorsi, dei due progetti nazionali Con quale aggettivo definiresti il tuo ruolo? Responsabile e responsabile Collaboratrice Qual è la cosa più difficile da fare nell'organizzare concorsi? Tenere i contatti con tutte le scuole Far andare bene tutto e soprattutto mettere d'accordo tutti E quella più divertente? Parlare con gli insegnanti e con i bambini Parlare con i ragazzi e vedere la loro soddisfazione Con quali parole inviteresti gli italiani a sostenere il FAI? Aiutaci, sembriamo tanti, sembriamo ricchi ma in realtà non lo siamo e abbiamo bisogno del tuo aiuto Sostienici, facciamo tante belle cose, iniziative ma soprattutto facciamo l'Italia più bella Per l'anno prossimo che progetti ci sono? Un nuovo concorso che si chiama Coarinazione per la scuola elementare e la scuola media E altri progetti per le superiori e per altri ragazzi Stessa cosa? Hai qualcuno da ringraziare? Io ringrazio gli altri del settore scuola, Sara in particolare e poi tutti quelli che hanno partecipato al concorso Io ringrazio la mia responsabile che mi ha dato questa opportunità e poi ringrazio tutte le scuole che hanno partecipato al progetto Fai un urlo ecologico Salviamo l'ambiente Wow, salviamo tutti Manda un bacio all'altro Saluta il pubblico Ciao, ci vediamo l'anno prossimo Ciao, alla prossima Ciao, alla prossima